vediamo adesso quale rapporto esiste tra apotema e numero fisso anche in questo caso ti sembrerà di non capirmi quando parlo in realtà se tu ascolterai attentamente tutta la spiegazione senza distrarti vedrai che capirai molto facilmente quindi iniziamo subito partiamo proprio dalla definizione che di solito viene riportata nei vostri libri che è questa tra il lato di un poligono regolare e l'apotema c'è un rapporto costante cioè che non varia mai prima di spiegarti questa definizione con un esempio ti ricordo il significato di poligono regolare e di apotema un poligono si dice regolare quando ha tutti i lati uguali e tutti gli angoli uguali l'apotema invece è quel segmento che dal centro della figura cade perpendicolare al lato adesso osserva ho disegnato tre quadrati di tre dimensioni differenti e per ogni quadrato ho disegnato l'apotema che ho chiamato OH poi ho misurato sempre per ogni quadrato la lunghezza del lato AB nel primo caso è 6 cm nel secondo è 4 cm e nel terzo è 2 cm ho misurato anche la lunghezza dell'apotema quindi del segmento OH nel primo caso è 3 cm nel secondo è 2 cm nel terzo è 1 cm adesso guarda che magia accade perché per ogni quadrato se io divido la misura dell'apotema per la misura del lato otterrò sempre uno stesso numero guarda 3 diviso 6 mi da 0,5 2 diviso 4 mi da 0,5 1 diviso 2 mi da 0,5 questo numero si dice numero fisso proprio perché non cambia mai qualsiasi quadrato tu prenda qualsiasi misura esso abbia ti accorgerai che dividendo la misura dell'apotema per la misura della base otterrai sempre uno stesso numero per tutti i quadrati il numero fisso è 0,5 il numero fisso cambia a seconda dei poligoni che tu prendi in considerazione quindi se nel quadrato è 0,5 nell'esagono sarà un altro numero nel triangolo equilatrono un altro numero ancora e così via cambia soltanto a seconda dei poligoni ora come calcolarlo non ha grande importanza perché comunque il numero fisso per ogni poligono regolare viene riportato sempre in una tabella che tu hai sempre a disposizione sul tuo libro però era importante capire il significato di numero fisso e soprattutto capire come calcolarlo perché potrebbe anche succedere che mi venga chiesto di farlo e io devo saperlo fare quindi ripassiamo velocemente la formula per concludere per ottenere il numero fisso dividerò la misura dell'apotema per la misura del lato ottenendo così il numero fisso ciao bambini alla prossima